A Ragalna domani presso l'area espositiva di Piazza Cisterna si terrà l'ultima giornata dell'iniziativa autunno-ragalnese con i mercatini dei prodotti tipici, i profumi e i sapori dell'Etna. Un evento molto apprezzato, articolato in più appuntamenti. Hanno avuto un grande successo nei limiti di quello che la pandemia ci permette. Quello che ci tengo a precisare è che è tutto un filo logico che porta i mercatini, l'Addeco, l'enoteca comunale affidata da qualche mese a una squadra di persone bravissime che stanno cercando di portare avanti quella che è la nostra logica. Valorizzare il prodotto locale e soprattutto la qualità. La quantità viene dopo, non è fatta per i luoghi di montagna. La montagna deve esprimere qualità. A Ragalna c'è parecchie eccellenze, c'è le mele, c'è il vino, c'è l'olio. Sì, assolutamente. Tutti i prodotti nostri sono delle eccellenze. Dicevo non quantitativamente ma certamente qualitativamente. E l'atmosfera natalizia a Ragalna continuerà con la casa di Babbo Natale domani in Piazza Cisterna e domenica 12 dicembre in Piazza Santa Barbara. Sarà possibile per i più piccoli anche fare una foto con Babbo Natale e poi ancora giochi e animazione. I bambini che vorranno potranno donare un giocattolo anche usato ma in buone condizioni che Babbo Natale poi porterà con la sua slitta solidale ai bambini che non ne hanno per regalare loro un sorriso e tanta gioia. E domenica 12 dicembre in Piazza Santa Barbara, mercatini natalizi di artigianato.